D.A. get that dough! D.A. get that dough! E questo giusto per farvi capire un po' l'hype che c'è attorno. La data chiaramente è andata sold out e erano previste 50.000 persone all'Energy Stadium Stand, luogo in cui ogni anno si tiene il festival. Secondo quanto riportato dagli agenti, gli incidenti sono iniziati a succedere dalle 9 di sera in poi. I fan hanno incominciato a saltare le barriere cercando di entrare in ogni modo possibile e nello scavalcare alcuni di questi sono rimasti per terra, venendo poi schiacciati da 10.000-20.000 persone. Il tutto è continuato anche al concerto in corso, dove ambulanze andavano e venivano e nel loro tragitto trovavano i fan che non le facevano passare, impedendo quindi ai soccorritori di svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi. Ci sono anche video di persone salvate dalla calca sotto gli occhi di Travis mentre quest'ultimo suonava e qui ci tengo ad aprire una piccola parentesi. Se siete i suoi fan già lo sapete, se non lo siete probabilmente lo sapete lo stesso, Travis Scott è uno dei migliori live performancer che ci sia, sia per quanto riguarda come tiene il palco che per come intrattiene il pubblico. Se vai ad un suo concerto la regola è una, fare casino. Sotto ogni punto di vista, rage puro e quando parlo di far casino intendo in maniera educativa, quindi gridando, ballando, spingendosi, non che vengo e ti tiro un cazzotto in bocca, ci mancherebbe altro. Quindi già qui ci tengo a smentire tutte quelle persone che, eh però Travis addirittura ha visto le ambulanze e si poteva fermare. No, non c'entra un cazzo perché le ambulanze a concerti del genere, soprattutto se si parla di Travis Scott, ci sono sempre, proprio per prevenire e aiutare chi si sente male in mezzo al pubblico. Nei giorni successivi sono anche usciti vari scoop come per esempio si pensa che in mezzo al pubblico ci fosse una persona che stava drogando la gente, facendolo andare nel panico più totale. Ma, vi dico la mia, questa mi dà tanto di cazzata giusto per togliere qualche colpa a Travis e al suo staff, anche perché non riesco a capire come una persona possa drogare altre come, con l'aria, con la forza dello spirito, cioè non capisco. Invece un altro scoop decisamente più interessante è che le persone effettive al concerto erano 200.000 e non 50. Non è neanche la prima volta che gli organizzatori di eventi fanno entrare più persone di quante sono consentite ed è una cosa che deve finire di succedere. Se il posto può ospitare 50.000 persone, massimo in 50.000 devono entrare non uno, non cento e non mille in più. Invece gli organizzatori, e ovviamente non parlo di tutti ma forse della maggior parte, non si fa scrupoli a intascare qualche soldo in più anche a tal punto da mettere in pericolo la vita delle persone. Una cosa simile è successa a Corinaldo qualche anno fa al concerto di Sfera, è successa qualche giorno fa all'Astro World Festival e continuerà a succedere se non cambiamo la musica. Attraverso i suoi social Travis ha provveduto a chiedere scusa a tutti per l'accaduto, mandando preghiere alle famiglie delle vittime coinvolte e giustificandosi dicendo che mentre si stava esibendo non ha realizzato per nulla quello che stava succedendo. Ed è per questo che alla fine non ha stoppato lo show, come vi dicevo prima le persone ai concerti si sentono male sempre, a quelli di Travis Scott forse ancora di più, e lui mentre cantava non ha potuto proprio mai immaginare che delle persone lì sotto stavano morendo. A proposito di questo, l'età delle persone decedute è 14, 16, 2 di 21, 2 di 23, 1 di 27 e un ragazzino se non proprio un bambino di 10 anni. Cap, scusate l'intromissione, l'hab futuro che vi parla, ho letto la notizia del bambino di 10 anni da un Instagram post, fatto sta che poi documentandomi meglio su vari siti non ho letto altro, quindi immagino fosse una fake news. Il più giovane a morire rimane il ragazzino di 14 anni, mentre al posto di quello di 10 ce n'è un altro di 20. La cosa che più mi fa rabbia è che quando uno va a un concerto dovrebbe solo pensare a divertirsi e tornare a casa con un sorriso stampato, invece il pensiero che 8 persone tra queste non sono manco rientrate a casa mi spezza davvero il cuore. Credo che quando succedono queste cose la colpa non è mai di uno in particolare, quindi solo di Travis, solo della security o di chi ha organizzato l'evento, ma che ci sono più fattori che hanno le loro fette di colpa. In primis gli organizzatori dell'evento, e sì, lo so che l'evento è organizzato da Travis Scott in quanto il festival è suo, ma non lui direttamente ha preso accordi su biglietti venduti, quanta gente far entrare, mettere la security in quantità giusta o mettere le ambulanze e i soccorritori. Nonostante anche Travis Scott ha la sua piccola parte di colpa, perché va bene che stai lavorando, stai performando e non ti rendi conto della situazione che ti circonda, ma se avesse fermato il concerto qualche attimo prima magari avrebbe risparmiato qualche vita o qualche ferito. E infine ci metto i fan, non tutti chiaramente, ma almeno la maggior parte si è comportata da scimmie, saltando le barriere, non consentendo che le ambulanze potessero aiutare chi effettivamente si sentiva male e tutto il resto. Ora, quello che è successo è successo, otto persone sono morte e nessuno le riporterà in vita. Il massimo che possiamo fare è impedire o fare di tutto per impedire che episodi del genere in futuro possano ricapitare. Si tratta di organizzarsi meglio sotto ogni punto di vista, non fare entrare più persone di quante sono consentite, mettere security in quantità giusta in base a quanto il pubblico è grande, mettere più ambulanze o in generale personale medico e comportarsi in maniera rispettosa. E per carità, lo so che siamo ad un concerto, la gente è fuori di testa perché sta assistendo al live del suo rapper preferito e non capisce più nulla. Però, cazzo, se vedi uno che sta a terra e non ce la fa, si sta sentendo male, ti fermi un secondo per accertarti di come stia o quantomeno per avvisare qualcun altro l'ambulanza o chi di dovere debba aiutarlo. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, abbiamo parlato un attimo di quello che è successo, ricostruendo la dinamica, esprimendo quelli che sono i miei pensieri e come possiamo evitare queste cose in futuro. Non mi resta che chiedervi voi cosa ne pensate. Innanzitutto dell'accaduto, se poi mi volete dire cosa pensate di Travis Scott, ma soprattutto come pensate che queste cose possano essere evitate in futuro. Lasciatemi un commento qua sotto. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, mi invito a lasciare un mi piace e se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi. Se invece lo siete già, attivate la campanellina per non perdervi ogni mio video. Qui sotto in descrizione trovate anche tutti i link dei miei social, delle mie playlist e anche del gruppo Telegram. Mi raccomando, entrate, vi aspetto in numerosi. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo. Slash!